SILENZIO Hanno disposto il rilascio anticipato tenendo conto del tuo lavoro nelle serre. Vista la condizione speciale del detenuto, il silenzio viene considerato assenso. Torna a casa dei tuoi. L'hai ereditata nonostante tutto. Lunedì, 16 aprile 2022. Diamo il via al programma di monitoraggio giornaliero e analisi comportamentale. Il nostro lavoro è stabilire il suo stato psicologico attuale e la sua potenziale pericolosità. Dopo la morte dei genitori non ha più aperto bocca né al processo, né con gli educatori, né con nessun altro. Ciao. Lei chi è? Sergio Siskar. Vi siete incontrati, no? Lui è un buono. Allora aiutami a dimostrarlo. Probabilmente sei l'unica persona con cui può aprirsi. Marta, aiutami ad aiutare Sergio. Questo è un errore, Anna. E se dice tutto a Sergio? E se la uccide appena arriva? Non sai chi è quel ragazzo che ti stava accanto? È fuori controllo. Non osare toccarli. Nessuno sa spiegare perché alcune persone si sentono attratte dai criminali. Serve qualcuno che controlli te? Tu conosci il caso? E conosci anche Sergio? No. 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 No.